Una misura oggettiva che può darci un dato importante per decidere di approfondire la presenza di una ipotetica scoliosi con una visita specialistica è la misura di rotazione del tronco. Questo test è sempre stato fatto con uno strumento chiamato scoliometro e che fa parte dell'arriamentario classico di uno specialista che si occupa di questi problemi. Come vedete si tratta di una livella graduata che ci dice di quanti gradi è ruotato un tronco quando è inclinato in avanti. Lo scoliometro si usa appoggiandolo semplicemente sulla schiena del paziente facendolo scivolare lungo la colonna e ci permette di leggere la misura. Questo strumento è usato da specialisti ma adesso anche per chi fa un altro lavoro è possibile prendere questa misura col telefonino. Bisogna scaricare un'applicazione gratuita. Cercate su Play Store o su Apple Store Isico App. La scaricate e la installate. Registratevi inserendo i dati che vi chiede. Aprite lo strumento a scoliometro. Mettete i pollici sotto il bordo inferiore del telefonino e fate scorrere il telefonino sulla schiena fino a identificare il punto in cui si legge il numero più grande. Se questo numero supera 7 in caso di adolescente o 5 per bambini fino a 10 anni è consigliabile programmare un'avvisia di controllo con uno specialista.